È la sala del Consiglio Comunale di Castiglione Fiorentino ad ospitare la cerimonia di premiazione del premio Studio Sport che premia appunto i ragazzi che si sono distinti per un ottimo livello scolastico ma anche per i risultati sportivi. Vincitrice del premio Beatrice Coradeschi, 15 anni, iscritta al primo liceo dell'Istituto Piero della Francesca di Arezzo dell'ASD Tycoon Club. Beatrice è campionessa italiana 2021 di categoria, ha conquistato il secondo posto al campionato online della Federazione Mondiale di Taekwondo 2021 e quinta agli europei di Lisbona 2021 con la nazionale italiana. Non è stato facile anche perché il tempo non è molto che ho per studiare quindi devo focalizzarmi molto su quello che faccio perché altrimenti non posso permettermi di stare tutte quelle ore in palestra, se mi concentro posso fare entrambe tranquillamente. Quanto è importante lo sport per te? Sono a scala ad una 10, 10 a dir poco però sì ci vivo io, se pensassi a una vita senza andare in palestra non saprei, le mie giornate sarebbero vuote penso. Sì, sport, legalità, fair play, rispetto delle regole, sano agonismo, sono tutti spirito di squadra, sono tutti valori che le fiamme gialle cercano di portare avanti e cercano attraverso queste iniziative come quella di oggi di infondere nelle generazioni più giovani affinché questi valori si possano reiterare nel tempo. Una borsa di studio questo riceveranno? Riceveranno una borsa di studio ma forse quello che gli farà più piacere è la possibilità di passare una settimana a Castel Porziano nel centro sportivo delle fiamme gialle quindi vivendo, allenandosi ma vivendo insieme ai grandi azietti delle fiamme gialle e questo per un ragazzo che ama lo sport è veramente il massimo, veramente il massimo. Grazie. 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 Grazie.